Giovanni Palomba, sindaco della città di Torre del Greco, una pietra miliare questa mattina è stata messa dall'amministrazione comunale con la presentazione alla stampa e alla città della delibera che ufficializza e ufficialmente dà via ai lavori di riqualificazione dell'area portuale e alla creazione di una nuova darsena. Allora la prima delibera del 2022 dell'amministrazione comunale nasce, ecco prima delibera del 2022 è la storia, nasce con il progetto di fattibilità tecnico-economico per quanto riguarda il recupero dell'area portuale. Cosa vuol dire? Che praticamente nelle prossime settimane noi daremo vita a quelli che sono i finanziamenti perché questo studio di fattibilità abbiamo un porto di cantieristico che dovrà andare nella zona cosiddetta del San Giuseppe alle Paludi. Il porto nostro rimane come sta ma ci sarà una passeggiata che va dal circolo aeronautico fino a tutto il corso che ne baddi fino ad arrivare al porto cantieristico e in più sarà rafforzato tutta la barriera frangifrutto dove c'è il Cristo Redentore. Andrà a step, il primo step è anche facilmente finanziabile e la passeggiata con la barriera del frangifrutto. Cosa vuol significare? Vuol significare che tutto quello che avverrà come amministrazione nei prossimi anni partirà da questa delibera che è fondamentale perché poi c'è tutto il recupero delle zone limitrofe a questo studio di fattibilità del porto quindi strade sotto passaggi per quanto riguarda le ferrovie che è un qualcosa di enorme nel vero senso della parola ma è una pietra miliare perché qualsiasi nuova amministrazione, qualsiasi nuova realtà amministrativa partirà da questa delibera. È un atto fondamentale, è un atto primario, un qualcosa che praticamente può realmente modificare e cambiare quello che è l'assetto urbanistico della nostra città. Io ringrazio tutta l'amministrazione comunale, gli assessori, i tecnici e ringrazio anche dei cittadini che io ho definito nella conferenza stampa capatoste, cioè persone che praticamente ci hanno creduto, ci hanno creduto perché conoscevano delle progettazioni ma che erano messe all'interno di cassetti, all'interno del comune ma non erano mai nessun atto deliberativo. Abbiamo ripreso quella che era un sogno nel cassetto e l'abbiamo fatto diventare realtà. Grazie a tutti. Io spero nei prossimi 15 giorni di rifare, di chiedervi a voi giornalisti che ringrazio tutti per la presenza di una nuova, un'altra, ulteriore conferenza stampa. Spero che a questo posto possa sedere un sindaco e non un commissario prefettizio, questo mi auguro per il bene della città, però fino a quando noi saremo in questa sede, lavoreremo fino all'ultimo secondo affinché quello che abbiamo programmato lo possiamo portare a terra. Laddove non ci fosse più un'amministrazione, allora ci sarà un commissario e un nuovo sindaco che da questa delibera dovrà partire. Grazie a tutti.